buongiorno buongiorno a tutti oggi è lunedì 28 settembre ed eccoci per la rassegna stampa anche oggi diciamo che i giornali si dividono sui titoli occupano ambiti e spazi diversi il Corriere Sera per esempio sceglie di parlare di Conte ma nella scelta di cambiare il reddito di cittadinanza cosa peraltro che anche il Sole 24 ore mette in prima pagina e il Corriere dice la scelta di Conte cambio il reddito di cittadinanza e invece il Sole 24 ore la mette così il reddito di cittadinanza scade per metà delle famiglie questo sul tema del reddito di cittadinanza Repubblica continua con il Papa e dà spazio molto a tutte le vicende che hanno riguardato l'ex cardinal Becciu Vaticano svolta nelle finanze adesso il Papa cambia tutto e invece la stampa si occupa del MES in particolare le parole del governatore di Banca Italia Visco MES pressing di Banca Italia a piano verde da 75 miliardi e poi invece il domani si occupa più direttamente dei fondi europei recovery fund in particolare con Stefano Feltri in prima pagina lo spreco dei fondi europei inizia nei ministeri e il giornale continua a interrogarsi sul centrodestra e sfrutta anche un'intervista che oggi fa con la Ghisleri e il titolo è al centrodestra serve un leader pacificatore vedremo che questo è l'esito di un sondaggio sul sentiment del popolo del popolo di centrodestra il tempo va giù duro su Tridico Conte e Tridico ecco le bugie sul caso Inps Libero si occupa dei grillini invece ecco i grillini arricchiti sfruttano l'anticasta per guadagnare il riformista che oggi è in versione economica cioè economia il riformista economia per l'appunto ed ha il titolo di apertura sul fisco il nuovo fisco va costruito senza la frusta ed è Ernesto Maria Ruffini che scrive sul riformista e invece il messaggero si occupa della influenza del virus ma del vaccino sull'influenza vedremo ovviamente anche questo perché ci sono notizie che riguardano l'Italia ma non soltanto l'Italia ma io direi di partire subito con il tema delle misure che il governo sta prendendo appunto del radio di cittadinanza ma vedremo quota 100, recovery fund insomma il sole 24 ore come vi ho detto in prima pagina mette questa vicenda della rivisitazione diciamo del radio di cittadinanza e sul radio di cittadinanza un mese di alt per metà beneficiari si chiude il 30 settembre la prima fase della misura introdotta nel 2019 entro fine anno l'intervallo coinvolgerà 635 mila nuclei su un milione e 600 mila sinora un costo di 8,5 miliardi e dice sono solo 220 mila le offerte di lavoro dai navigators una platea di un milione e 200 mila potenziali e dice poi c'è l'analisi di Alberto Orioli che dice il tagliando è un'occasione per correggere il tiro e la fase 2 sarà più restrittiva almeno sulla carta chi chiede il rinnovo degli assegni perde l'aiuto se rifiuta una proposta di impiego a fine luglio mille 1,23 milioni di persone tenute al patto di servizio solo 710 mila sono state convocate dai cpl e in 318 mila hanno firmato insomma questo è il bilancio del radio di cittadinanza e questa è anche l'intenzione che abbiamo visto sul corriere della sera scusate sul corriere della sera che quella del 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 presidente del consiglio che ha intenzione di rivederlo radio di cittadinanza stretta su chi rifiuta il lavoro e marco galluzzo che ne scrive ma a proposito del radio di cittadinanza vi segnalo sulla stampa se non erro no ovviamente non è sulla stampa allora sarà su repubblica forse scusate vediamo subito chiaramente non ho segnato allora forse è il corriere abbia preferito eh ma troveremo vediamo se è sul corriere un'intervista alla ministra bellanova eccolo qua tommaso labate dice ministra non salva nulla dell'impianto del radio di cittadinanza e dice bellanova arriva a dirle che in un momento drammatico per l'economia una misura di sostegno al reddito può anche avere una sua efficacia il problema è che il reddito di cittadinanza non raggiunge nessuno degli obiettivi per il quale almeno a parole era stato approvato tipo dice labate che la intervista si è sempre detto che non è una misura assistenziale giusto hanno sempre detto che era funzionare per la ricerca di un lavoro giusto sul primo punto non c'è stata la possibilità di controllare che effettivamente i percettori del reddito accettassero o meno i lavori che eventualmente gli venivano offerti non c'è alcun tipo di controllo ma veniamo al punto delicato quello del cercare il lavoro e chi non ce l'ha chi monitora la domanda e l'offerta di lavoro consentendo quindi di capire di quale tipo di lavoratori hanno bisogno le imprese nessuno quindi ci troviamo nella condizione non più tollerabile soprattutto se guardiamo al tasso di disoccupazione dei giovani generazioni di ragazzi che cercano lavoro e di imprese che non trovano lavoratori l'agenzia nazionale delle politiche attive sul lavoro doveva servire a questo obiettale abate sentiamo parlare dell'amp al più di quando si tratta delle richieste dei suoi vertici che quando abbiamo dobbiamo giudicare il compito che dovrebbero svolgere e non svolgono la parte delle politiche attive che dovrebbe essere il cuore della misura di sostegno al reddito ufficialmente non è assistenziale è mancata del tutto per questo non possiamo più andare avanti così ancora dice l'abbate siete soddisfatti del superamento di quota 100 annunciato da conte di fronte a misure che vanno incontro al populismo bisogna avere il coraggio di dire il no i sì e i no giusti di fronte a quota 100 per me è sempre stato no eravamo tutti in pena per il carpentiero e il lavoratore agricolo che non potevano lavorare fino a 70 anni ecco il carpentiero e il lavoratore agricolo con questa quota 100 sono rimasti al lavoro in pensione c'è andato solo che aveva un lavoro stabile garantito sicuro e non c'è stato il turnover che avrebbe dovuto fare entrare stabilmente nel mondo del lavoro i giovani precari apprezzate questo conte più riformista dopo le elezioni si chiude così l'intervista di rabbate risponde la bella nuova registriamo il passavanti il passavanti la matrice d'italia viva e la ragione del nostro impegno al governo e il riformismo anche stavolta emerge con chiarezza che le nostre proposte non erano finalizzate a creare difficoltà la maggioranza ma ad affrontare risolvere qualche problema del paese mi piacerebbe che proprio per questo anche noi fossimo più apprezzati questa è la bella nuova che per la stragrande maggioranza si parla del reddito cittadinanza poi come avete visto e si occupa invece anche di altre questioni tipo quota 100 che vedremo tra poco perché fa parte delle cose effettivamente che sono messe in discussione dal 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 governo e infatti lo vediamo subito e dunque il giornale il giornale a pagina 5 ci parla esattamente di quota 100 e alberto signorini pensioni stop a quota 100 e conte fa 300 mila vittime pochi eviteranno lo scalone ai nati nel 1960 cinque anni di lavoro in più dei colleghi del 59 ecco le alternative questo è quello che dice il giornale che mette così diciamo la decisione del governo di rivedere di rivedere quota 100 ma se volete sul tema della riforma delle pensioni c'è anche il messaggero a pagina 9 che invece la mette così pensione uscita 64 anni sconto di due lavoratori faticosi ai lavori faticosi scusate è lo scenario di michele di branco che dice il piano del governo per la nuova flessibilità penalizzazione in base alla durata dell'anticipo binario differenziato per chi è impiegato in attività gravose non avrà decurtazione e dice 102 è la quota da raggiungere somma di 38 anni di contributi e 64 anni di età 3 per cento la decurtazione della pensione contributiva per anno di anticipo e infatti dice poi a proposito delle cifre ci dice che i pre pensionamenti costano altri 10 miliardi fino al 2028 quota 100 finisce nel 2021 per i lavoratori interessati ad approfittarne ma non terminano in quell'anno gli effetti sul bilancio dello stato della norma voluta dal precedente governo dal punto di vista finanziario questo è abbastanza ovvio chi ha potuto potrà andare in pensione anticipatamente continuerà a percepire anche negli anni successivi un assegno che rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista in base alle regole ante quota 100 maggiore spesa che dura appunto fino alla data in cui il pensionato in questione avrebbe lasciato il lavoro con i requisiti normali richiesti dalla legislazione persistente quindi a secondo dai punti di vista da chi come me pensa che quota 100 sia stato un obbrobrio i danni e ovviamente per chi la pensa come di quota 100 si porteranno avanti non finiranno col 2021 quando si interromperà ma andranno avanti come vedete fino al 2028 ma vediamo che ci sono anche altre questioni per quanto riguarda le misure del governo e le questioni che sono nel dibattito della maggioranza sicuramente il reddito di cittadinanza che sembrava intoccabile invece come avete visto adesso si ritoccherà così vale per i decreti cosiddetti sicurezza e di questo ci parla Repubblica a pagina 4 anche questi sembrava che non si potessero toccare e in effetti non si sono toccati per molto per molto però la Repubblica ci dice nell'articolo di Dommaso Ciriaco l'agenda di Conte via i decreti Salvini entro dieci giorni ma sul MES frena il premier continua a tenere la reazione del momento 5 stelle su salva stati di maio cauto sull'immigrazione cerchiamo ancora una soluzione come vedete si dovevano interrompere sono all'ordine del giorno il PD insiste molto su questo e ovviamente non solo il PD ma anche gli altri partner di governo ma ci sono ancora resistenze da parte del Movimento 5 Stelle d'altra parte ripeto si stanno rimettendo in discussione tutte le cose su cui si erano diciamo decisi a tenere il punto si riguarda leggi che erano state fatte col precedente governo appunto pensiamo al reddito di cittadinanza pensiamo a quota 100 e a proposito del recovery invece Gabriele De Stefani sulla stampa ci dice bonus ad aziende e manager ecologici un piano da 75 miliardi per la svolta verde gli aiuti del recovery per la transizione verso la mobilità sostenibile infrastrutture si sblocca l'alta velocità al sud e poi qui ci sono i vari i vari capitoli fondi a eco bonus e riconversioni per quanto riguarda la transizione per quanto riguarda l'economia circolare obiettivo fabbrica rifiuti zero per quanto riguarda il fisco sgravi a dirigenti che innovano e per quanto riguarda le aree verdi turismo e salute spinta sui parti questo a proposito del recovery ma ancora a proposito dei soldi del recovery vi segnalo su libero un'intervista all'ex ministro passera che mette anch'esso come hanno fatto un po tutti sul chi va là attenzione a come vengono spesi i soldi e infatti ci dice non lasciamo alla politica i soldi che l'europa ci dà l'allarme di passera è già partito l'assalto l'ex ministro gli aiuti della ue vanno dati alle imprese non a comuni regioni altrimenti ci ritroviamo con le aiuole al posto dell'alta velocità e francesco specchia che che parla e e dice tra l'altro specchia di domanda caro banchiere questo è un alveare d'acciaio e plexigas da cui si leva un ronzio di idee direbbe il poeta qua c'è la crisi ma lei produce profitti e manager iperattivi perché dice passera l'entusiasmo debbo frenarli ognuno di loro è venuto per contribuire a costruire la sua impresa ad un certo punto abbiamo dovuto addirittura introdurre delle regole perché non si esagerasse nello smart working e sono tutti così giovani dirigenti collaudati età media 37 anni forti valori comuni in tutte le divisioni di credito però non mi sono portato i miei dall'esterno avrebbero fatto del male alla loro azienda vabbè questa è la cosa che riguarda diciamo la sua la sua azienda e dice tra l'altro ecco qua il suo sguardo ora passa dall'allegria dei bilanci allo spaisamento non mi dica che anche lei è preoccupato per la sottovaluzione della crisi da dietro l'angolo licenziamenti lo slittamento delle moratorie le tasse da pagare pila a terra crollo dei consumi eccetera e dice passera ovviamente siamo in un momento di grandi opportunità ma è accaduto prima tra tutti i fondi europei next generation europe messe fondi strutturali in tutto ci pioveranno almeno 300 miliardi in parte addirittura a fondo per tutto nessun governo nessun parlamento ha mai avuto un'opportunità del genere per disegnare il futuro del paese ma gli dice specchia ma è pur vero che sarà difficile spendergli i soldi se usciamo se usiamo i vecchi metodi e va bene questo è tra l'altro quello che dice passera ma il senso è molto chiaro è la preoccupazione che obiettivamente non è solo di passera un po di tutti su quello che c'è da fare ma a proposito di recovery fan prendiamo dal domani l'editoriale di del direttore stefano feltri lo spreco dei fondi europei iniziano i ministeri e dice feltri scrive così ma davvero la ripresa dell'italia passa per l'installazione di impianti di virgolette domotica di controllo chiuse virgolette di tutti gli impianti del palazzo della farnesina la sede del ministero degli esteri rendere intelligente virgolette la sede di lavoro di luigi di maio evitiamo battute è di certo importante chi oserebbe mai sollevare dubbi sulla necessità della virgolette creazione di un sistema domotico per la gestione coordinata di tutti gli impianti chiuse virgolette sono 13 milioni di euro e sei anni di lavoro d'accordo noccioline rispetto ai 209 miliardi complessi complessivi in arrivo dall'unione europea ma è soltanto una delle 587 voci che compongono l'ultima lista della spesa dei progetti da finanziare con il piano next generation eu che in italia continuano a chiamare recovery fund per ricordare a tutti che vogliamo usarlo per aiutare la generazione attualmente al potere non come dovrebbe essere le prossime che soffriranno le cicatrici della pandemia nel documento che circola da ieri pomeriggio c'è veramente di tutto dai satelliti agli alberi da piantare nelle città per renderle più verdi alla digitalizzazione degli archivi degli uffici consolari e taglia le tasse che il commissario paolo gentiloni ci ha già detto non essere accettabili come impiego di fondi per la crescita non per benefici immediati ora il ministro delle politiche europee insomma endola che persona seria ripeterà che si tratta di documenti di lavoro provvisori privi di qualunque valore come quelli circolati a fine agosto e subito smettiti resta il fatto che siamo ancora fermi alla fase delle liste della spesa anche in questo ennesimo e sicuramente provvisorio resto non si vede una strategia ma soltanto il tentativo di usare recovery fund come un banco matta per pagare progetti che in condizioni normali non riescono mai ad avere abbastanza risorse ci sono i piani per la età anche per finanziare quelli e quelli esistenti anche per finanziari quelli esiste il mess che però i cinque stelle non vogliono e ci sono tutte quelle voci di spesa che una volta avrebbero fatto inorridire il movimento fondatore da beppe fondato da beppe grillo da un miliardo per la messa in sicurezza degli edifici di culto eppure il vaticano di soldi ne ha abbiamo scoperto nelle inchieste ma li investe in palazzi londinesi a giacimento di petrolio angolani e addirittura un miliardo di euro per la tanto detestata linea ad alta velocità torino lione ci sono per fortuna anche tante cose sacrosante svariati miliardi alla scuola sulle infrastrutture in banda larga sull'evoluzione digitale di una pubblica amministrazione che continua a vivere di carta penne e timbri molte voci della lista non verranno finanziate speriamo ma il fatto che continuino ad essere elencate nei documenti di lavoro indica che ci sono frotte di dirigenti ministeriali che hanno un approccio quasi predatorio ai fondi di in arrivo senza alcuna preoccupazione per l'interesse generale e noi dovremmo essere tranquilli a sapere che saranno loro a gestire i 209 miliardi questa è la domanda che si fa stefano feltri sul domani a proposito del recovery fan ma vorrei passare a un altro argomento prima di vedere due due editoriali un po più politici e c'è appunto ernesto maria ruffini sul sul riformista economia di oggi che parla di fisco perché questo è un tema non rilevante perché arriveranno i soldi da europa ma c'è anche un problema di soldi da recuperare in italia per esempio dall'evasione fiscale il titolo è il nuovo fisco va costruito senza la frusta per rendere il sistema tributario più equo e abbattere l'evasione non servono metodi da stato di polizia ma la revisione delle aliquote tra l'altro scrive ernesto maria ruffini la strada per attivare la dissuasione contro l'evasione è un fisco molto ben informato e non la strada delle ispezioni o armati con la frusta delle sanzioni solo se le basi imponibili delle principali imposte sul reddito e sul valore aggiunto saranno il più possibile omnicomprensive con erosione ed evasione ridotte al minimo sarà possibile decidere come e quanto informare il sistema tributario al criterio di progressività cioè dargli la forma progressiva che impone la costituzione e qui bisogna essere chiari non basta un solo tributo anche importante leggermente progressivo perché sia progressivo il sistema razionalizzazione di esenzione agevolazione riduzione dei regimi cedolari e forfettari revisione del catastro redistribuzione dei prodotti tra i panieri iva sono i passaggi necessari per creare le basi su cui poi si potrà decidere in base all'ammontare di redistribuzione desiderata e al gettito necessario quante e quali aliquote applicare tenendo altresì conto della redistribuzione fatta tramite la spesa pubblica che le imposte finanziano ancor più che il sistema tributario è l'insieme di sistema tributario e sistema di welfare che deve essere redistributivo e magari per aumentare il peso dei tributi progressivi all'interno del sistema si potrebbe pensare ad abolire o ridimensionare prelievi esistenti che non possono essere progressivi calcolare e pagare le tasse è un lavoro complesso in tutti i paesi del mondo almeno di quello che si definisce avanzato lasciare i cittadini soli di fronte agli adempimenti crea una disparità di trattamento fra chi si può permettere un consulente all'altezza e chi no per questo il fisco deve informatizzarsi al massimo grado ed essere l'avanguardia della pubblica amministrazione di cui rappresenta l'interlocutore più frequente per i cittadini questo è tra l'altro quello che scrive il direttore dell'agenzia delle entrate ruffini a proposito del revisione del fisco diciamo e di una parte che dovrebbe riguardare la manovra non legata necessariamente al recovery fund ma necessaria per il nostro paese certamente ma andiamo a vedere allora due articoli di carattere più politico il primo è Di Vico Dario Di Vico sul Corriere della Sera il titolo è la società dei confini e Di Vico approfittando anche diciamo di una risultanza che arriva dai risultati scusate dei referendum parla delle cosiddette zone a ZTL cioè quelle che sono considerate più privilegiate quelle che diciamo vabbè tutto il famoso discorso che si fa sulle ZTL e diciamo Di Vico si prende carico di mettere in evidenza quelle che sono i rilievi che vengono fatte a queste zone a ZTL e anche alla contrapposizione che viene fatta invece con coloro che abitano in periferia e diciamo fa riferimento anche al fatto che questa è una cosa che non accade soltanto in Italia ma un po' in almeno in Europa e però dice tra l'altro cerca di diciamo di dare una lettura anche diversa con delle obiezioni che si possono fare alla lettura che viene data di questi privilegiati delle zone a ZTL e mettendo insieme un po' di cose che contestano questa linea di pensiero poi dice però ma resteremo comunque nei confini di una ringa difensiva appunto rispetto a quello che si può contrastare ciò che si ha timore di dire è che pur con tutti i loro insopportabili birignao le ZTL racchiudono un ecosistema di classe dirigente in una stagione nella quale prevalgono invece nella politica come nella comunicazione modelli demagogici e oltransisti che inducono a disprezzare l'operato dei costruttori di senso e dei sarti della società ed esaltano la performance dei cacciatori di like e poi dice però di Vico ma sono sufficienti queste considerazioni ad assolvere i residenti delle zone esclusive francamente no penso che citarle in giudizio sia giusto e proficuo possa persino contribuire a rivitalizzare una democrazia palesemente stanca a patto però di individuare correttamente i capi di imputazione provo a formularne due il primo riguarda la mobilità sociale gli abitanti delle ZTL danno l'impressione di voler difendere i confini dei loro fortino e perpetuare le condizioni di privilegio materiale e immateriale per trasmetterla senza colpo ferire senza nessun merito ai propri figli ora è vero che suscita dubbi la proposta di bastonare fisicamente i trasferimenti ereditari sarebbe probabilmente un assist alla destra o di dare un assegno di 15.000 euro a tutti i diciottenni ma il tema della trasmissione intergenerazionale della disuguaglianza dovrebbe rappresentare un tarlo per dei veri progressisti che sembrano invece avere a cuore più i temi della diversità di quelli della mobilità sociale da qui alla sensazione che le ZTL siano un club a trasmissione ereditaria e non un esempio di società aperta il passo è breve la possibilità di entrare a far parte delle classi dirigenti dove trovare posto nel bersaglio nel bagaglio di speranze di ciascun ragazzo ragazza è una condizione minima che sta alla base di un patto sociale post novecentesco prendendo a prestito la celebre frase di napoleone è quasi doveroso incoraggiare ogni infante a portare nel proprio zanio il bastone del maresciallo il secondo capo d'accusa riguarda gli ambiti di impiego del circolo ZTL per molti dei suoi adepti innovazione è una parola sacra ma nella vita di tutti i giorni la maneggiano come un coltello non come un cucchiaio la utilizzano per infilzare i retrogadi dubbiosi più che per includere e raccogliere adesioni così facendo finiscono per contrapporre il futuro al presente e non tengono conto che la maggior parte che la maggioranza più o meno silente pensa e ragiona avendo come punto di riferimento altre priorità non necessariamente confliggenti quali sono il consumo la produzione oppure il risparmio se l'innovazione non è capace di parlare con questi mondi finisce per generare un effetto bolla con la triste conseguenza di non far nascere mai in italia una vera constituency della modernizzazione lunga vita dunque alle ZTL ma dobbiamo chiedere ai loro abitanti non tanto una biura di tic e linguaggi quanto di mettersi a disposizione per ricreare una connessione con il paese reale lasciare da parte l'arroganza basata su un'indimostrabile superiorità antropologica e sporcarsi le mani con la difficile costruzione di una società dei tanti questo è quello che scrive Dario Di Vigo ed è una valutazione diciamo politica su quello che dovrebbe fare una classe dirigente ma classe dirigente è per esempio il governo e in questo senso voglio per chiudere questo capitolo e poi entrare nelle questioni politiche anche nella vita dei partiti segnalarvi sulla stampa a pagina 17 Massimiliano Pararai che parla di Conte Conte il Doroteo del post politica e si fa riferimento al Conte prima nel governo precedente poi in questo poi tutta l'ondata come ha gestito l'ondata lo chiama il contismo 1 e il contismo 2 cioè quello con il governo con la Lega in cui si portava avanti temi molto populisti poi invece la vicenda del covid insomma è quello che sta accadendo adesso e dice tra l'altro Panarai affare da ponte tra i diversi stadi del contismo sono alcuni elementi di fondo come l'attendismo e la politica del rinvio per aggirare le divergenze di vedute tra partner della coalizione e come il camaleontismo effigiato nell'immagine del camaleonte da cui derivano anche la sua attitudine all'adattabilità al mutare delle circostanze un mix di passato e presente futuro nel quale si ritrovano tracce di una concezione della politica notabilare del gattopardismo quale permanenza di lungo periodo del passaggio pubblico italiano riveduta e aggiornata all'insegna di un trasformismo liquido 2.0 e dell'accreditamento di un format di decisionismo mediatico una strategia della flessibilità assolta e totale che finora ha decisamente pagato dal punto di vista dei consensi e un equilibrismo che in termini di suggestioni e scendenze appare per certi versi come democristiano ma risulta anche molto post moderno ed è basato su una forma ferrea di realpolitik per conto e contano innanzitutto i rapporti di forza e oggi che si sono spostati a vantaggio del PD eccolo annunciare l'archivazione di quota 100 e frasi più possibilista sul mess il contismo 2 si caratterizza così come un rinnovato protagonismo ed un segno più direttamente interventista per cavalcare il cambio di fase successivo alle ultime consultazioni elettorali e con l'occhio puntato sulla debolezza di una parte del sistema dei partiti perché la crisi del momento 5 stelle e quella delle formazioni centriste regala all'inquilino di Palazzo Chigi detentore di una rete ampia e consolidata di relazioni istituzionali internazionali e con l'ipotesi di riserva sebbene non facile di un proprio partito tutta una serie di chance ulteriori e la carta del suo paradossale doroteismo post politico si rivela spendibile su vari tavoli ebbene questo è il diciamo l'analisi che fa Panerari del conte conte 1 conte 2 ebbene c'è un caso che domina ed è quello di Tridico vediamo dalla Repubblica che ha lanciato questo presunto scandalo comunque questo tema del non è un presunto scandalo ma sicuramente adesso al di là delle responsabilità non v'è dubbio che la questione del dell'aumento di stipendio in un momento così difficile del presidente Tridico è una questione seria però Giovanna Vitale firma questo articolo a pagina 8 primo piano scandalo all'Inps dal conte 1 al conte 2 tutti i pasticci sull'aumento di stipendio a Tridico il decreto di agosto dice che il compenso di 150 mila euro decorre dalla data di nomina che risale a più di un anno fa e poi c'è un'intervista proprio per questo perché sostanzialmente la difesa di Tridico e di dei 5 stelle è sì ma guardate questa cosa è stata decisa con il governo Salvini e sottosegretario al lavoro quindi perfettamente informato di questa decisione era Durigone il quale nel taglio basso di pagina 8 viene intervistato sempre da non so da chi in realtà ma insomma dice perché siglato CL dice non sapevo dell'aumento se ne occupò l'ufficio di Di Maio ecco qui ritorniamo al tema è tutto accaduto a mia insaputa quello che sicuramente sapeva tutto era Luigi Di Maio e vorrei dire che diciamo quando adesso sentite il taglio dello stipendio dei parlamentari le cose eccetera 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 questo vale come diciamo i temi utilizzati durante il referendum e vedremo che questo poi si sposa con l'articolo di la prima pagina di Libero cioè di tutti quelli che diciamo denunciano scandali cose invece dicendo e poi sotto banco però di fatto o direttamente o indirettamente consentono che quello che accusano accadere agli altri magari non accade invece poi accada ai loro amici questo ci dice la Repubblica pagina 8 ma se volete c'è il tempo che prende le difese per l'appunto del centrodestra e di Durigon conto e tridico ecco le bugie sul caso Inps Palazzo Chigi è stato coinvolto nell'ok all'aumento di stipendio è stato il presidente Inps a darsi 80.000 euro in più di prima e allora se volete andate nella pagina 4 e 5 del tempo e ci sta l'intervista di Pietro Di Leo a Durigon sull'Inps Lega Estranea Durigon è sottosegretario a lavoro dice quando cadde il governo il CDA Inps non esisteva e dice ancora il deputato del Carroccio le nomine decise da Conte con PD e Movimento 5 Stelle i compensi nessuno aveva mai parlato prima di cifre e dice ancora Durigon era il governo e non sapeva assolutamente di un accordo tra 5 Stelle e Lega semplicemente perché non esisteva e ancora dice ho affermato di non sapere nulla dello stipendio ma Dagospia afferma le riunioni sul tema si sono svolte a Palazzo Chigi a proposito di Conte ma poi Bekis nella pagina 5 nella pagina accanto dice così mentono tridico e Conte l'aumento di stipendi è stato firmato dal sottosegretario Fraccaro il premier non poteva non sapere il presidente ha deliberato in pieno lockdown il raddoppio dei suoi emolumenti chiedendo anche gli arretrati e insomma questo è il tema ma a proposito di questo e lo dico perché poi vedremo che questo ritorna ci sono le devo dirlo singolari dichiarazioni del di Stefano Fassina che vede un complotto in tutto questo e lo mette in evidenza il tempo nel taglio basso lo stipendio fa litigare la sinistra Rizzo e Fassina su posizioni diverse il segretario del partito comunista dice prendono in giro gli italiani il deputato di Leu macchina del fango sì perché Fassina ha detto che questa è tutta un'operazione mirata a far saltare il governo ora francamente questo fa leggermente sorridere ma a proposito proprio di questo segnalo due questioni la prima due diciamo editoriali due commenti il primo è di Flavia Perina sulla stampa pagina 7 che dice parla sostanzialmente al di là di come sono andate le cose il titolo è se la politica perde contatto con il paese parla di una disconnessione evidente tra le scelte di palazzo le condizioni anche emotiva del paese si domanda come è possibile e la domanda è proprio come è possibile e dice Perina tra l'altro mistero o forse ovvia dimostrazione della differenza lungo dimenticata che passa tra l'ategoria del populismo e un'autentica vocazione popolare i desideri l'emozione le volontà del popolo sono da anni la bussola quasi esclusiva dei partiti talvolta la loro ossessione nonché il metronomo che regola i tempi del governo e del parlamento suggerisce di dilazionare accelerare le leggi lanciare campagne o metterle a dormire è bizzarro scoprire che a questa inesausta rincorsa del favore del popolo sia sfuggita l'elementare dato di realtà che il popolo italiano sta attraversando la crisi economica più grave della sua storia recente ha cancellato progetti di vita spese non indispensabili vacanze sta attingendo ai risparmi per sostenere figli che hanno perso il lavoro tra le cinghie in cassa integrazione senza sapere se a gennaio avrà ancora un reddito o no cerca la via dell'emigrazione una percezione anche minima di questa condizione che riguarda una parte rilevante dei cittadini sarebbe bastata a suggerire un rinvio degli aumenti ai dirigenti IMSS sarebbe stato forse ingiusto tridico prendeva uno stipendio ridicolo meno di un dirigente di seconda fascia e magari scoraggiante per i vertici dell'istituto su cui pesa un super lavoro mai visto ma la politica è fatta anche della capacità di capire la condizione generale del paese e di pronunciare un non possumus quando i tempi lo richiedono questo è Flavia Perina che mette in evidenza al di là di tutto il tema dell'opportunità rispetto alla situazione che si sta vivendo ma ancora più duro e amplio nella valutazione è Stefano Folli nel suo punto a pagina 27 di Repubblica che la mette così Stefano Fassina eletta alla Camera con l'EU ed esponente del sovranismo di sinistra tra virgolette parla del caso tridico portato alla luce da Repubblica come di un virgolette ennesima campagna di fango mediatico politica per far saltare l'alleanza PD 5 Stelle e il governo Conte chiusa le virgolette e aggiunge virgolette gli è andata male con il referendum ora ci riprovano chiusa le virgolette in realtà più che una campagna fangosa la vicenda del presidente dell'Inps testimonia del comportamento approssimativo e opaco di una certa classe dirigente amministrativa e politica soprattutto la seconda ciò che qui nel dibattito pubblico è stato rilevato non è tanto l'adeguamento in sé degli stipendi e vertici dell'istituto tema per cui si poneva comunque un problema di sensibilità sociale dunque di opportunità politica quanto il modo poco trasparente obbligo attraverso cui si è giunti alla decisione nonostante quel che pensa Fassina se l'intesa 5 Stelle PD è così fragile che basta una polemica sull'Inps per metterla a rischio la questione riguarda il patto di governo e non i giornali che gettano luce sulle zone d'ombra quanto al referendum chi ha votato sì pensando di salvaguardare i 5 Stelle e il governo come afferma l'esponente della sinistra si è assunto una certa responsabilità visto che ha contribuito a inclinare la carta costituzionale per inseguire la convenienza politica del momento abbastanza sorprendente considerato che Fassina di cui si ricorda l'aspera opposizione alla riforma Renzi del 2016 ha fondato un movimento intitolato patria e costituzione tuttavia il caso tridico non disturba solo la maggioranza rilevando le bizzarre contraddizioni dei 5 stelle che vorrebbero essere classe dirigente invece finiscono per accrescere i dubbi circa le loro qualità di governo a tutti i livelli anche l'opposizione è invischiata negli aspetti meschini della vicenda e giorgia meloni a svelarlo quando si domanda come sia possibile che di maio e conte chiedano oggi lumi ignorando che l'aumento di stipendio al presidente dell'istituto previdenziale anche a quello dell'inail era stato deciso nel giugno 2019 e chi lo decise il ministero del lavoro retto allora proprio da di maio mentre a palazzo chigi con una maggioranza molto diversa da oggi sedeva lo stesso premio la domanda di fratelli d'italia è legittima ma lascia nell'ombra un terzo soggetto la lega di salvini oggi nel fronte di opposizione ma nel primo semestre 2019 ancora al governo con i 5 stelle sottosegretario al ministero del lavoro quando si dà corso all'accordo per adeguare gli stipendi di vertici dell'inps e inali è leghista durigon difficile credere che ignorasse la decisione nata da un'intesa nell'ambito della maggioranza la stessa che aveva portato alla scelta di tridico come presidente anche se come abbiamo visto durigon smentisce scelta che lo stesso durigon dopo essere stato all'opposizione passato all'opposizione criticherà con vigore ma ammettendo che si trattava del frutto obbligato di una lottizzazione di conseguenza se di maio e conte erano a conoscenza dei fatti come la meloni sospetta è strano che il terzo personaggio al vertice dell'esecutivo cioè salvini ne fosse invece all'oscuro in altri termini la leader di fratelli d'italia rivendica per sé la coerenza di una linea di opposizione che salvini non può certo esibire forse la sottolineatura non è voluta o forse invece sì in ogni caso chi deve intendere intenderà questo è folli a proposito della vicenda tridico col quale possiamo anche chiudere diciamo questo capitolo eh che peraltro va avanti ormai da alcuni giorni e ne abbiamo viste tutte le spacciettature ma visto che stiamo parlando della responsabilità della lega anche della lega in questa vicenda di tridico andiamo invece a eh occuparci della lega perché oggi è il giorno del processo di salvini salvini che ha convocato le masse eh a catania in occasione di questa udienza eh sarà la pontita del sud eccolo qua salvini a pagina 12 del Corriere della Sera ed è eh Cesare Zapperi salvini a processo raduna la lega a catania da giovedì la chermesse per il caso Gregoretti leader dice ingresso nel ppe lo escludo e oggi va da zaia e dice Marco Cremonesi nell'intervista che fa a Stefano Candiani che è il senatore ehm e che è stato sottosegretario all'interno con Salvini ed ora è commissario in Sicilia per tre giorni parleremo di libertà sarà la nostra pontita del sud faremo dibattiti sul paese reale e vabbè questo è quello che ci dice eh il Corriere della Sera eh se volete sapere come la pensa Salvini basta che andate direttamente sul tempo che lo intervista a pagina sette toni un po' diversi dice non chiamo Conte a processo Salvini nessun reato per il caso Gregoretti non ne abbiamo commessi né io né il premier il leader della lega sabato in tribunale a Catania per presidenza preliminare l'ex ministro dell'interno accusato di sequestro di persona e tra l'altro eh a proposito la polemica perché a Formello aveva detto che c'erano sintomi della febbre dolori e compagnia bella è andato sul palco senza mascherina dice niente febbre ma torcicollo ho fatto il tampone a Mediaset per la tv e per quanto riguarda ehm la magistratura le toga in particolare dice non ce l'ho coi PM la procura avea chiesto l'archiviazione e dice sono a proposito del suo stato d'animo mi trovo imputato per la prima volta nella mia vita non sono preoccupato ho fatto solamente il mio dovere e per la sinistra dice si tratta di un processo politico il Parlamento lo ha voluto PD e Movimento 5 Stelle avrebbero dovuto leggere meglio gli atti e a proposito degli atti nel taglio basso ci dice la memoria depositata gli atti e prima eh ricollocamenti poi sbarchi fu il governo a dettare le regole la difesa del segretario del carroccio il principio stabilito da eh palazzo Chigi i profughi soprattutto minori e donne furono salvati da due navi italiane successivamente imbarcati sulla Gregoretti va beh insomma questo è quello che eh dice eh Salvini eh a proposito del processo eh che un po' tutti i giornali mettono in evidenza eh si aprirà ma segnalo sulla Repubblica in prima pagina e poi prosegue a pagina ventisette proprio dedicato a Salvini un editoriale di Ezio Mauro l'ex direttore di Repubblica le vie di fuga di Salvini tra l'altro dice Mauro Salvini ha operato un trapianto sul vecchio corpo leghista spostando il partito dalla tutela eh del nord contro l'Italia di Roma ladrona con a un nazionalismo vittimista ed egoista per un paese chiuso in se stesso contro le insidi dell'Europa e dei migranti prigioniero della paura. Lo schema è entrato in crisi quando le angosce concrete e universali per la minaccia del virus hanno ridimensionato le paure artificiali e gonfiate della politica che le alternative quotidianamente mentre che le alimentava quotidianamente mentre il recovery fund ha trasformato eh la UE da nemica ad alleata protrettice. In entrambi i casi Salvini è sembrato fuori dai giochi nonostante la sua campagna elettorale permanente come se la crisi della pandemia gli avesse infettato il vocabolario portando fuori sincrono le sue parole e soprattutto come se non avesse un pensiero di ricambio. L'Italia ha paura anche oggi naturalmente e chiede sempre sicurezza ma Salvini vede questo sentimento collettivo mutare sotto i suoi occhi e non riesce più a cavalcarlo anche perché la paura del male non è indirizzabile contro qualcuno e la sicurezza del contagio dipende in gran parte dalla responsabilità individuale. Il leader della Lega si trova così improvvisamente senza un nemico contro cui indirizzare l'ansia, la solitudine e il risentimento e protesta inutilmente contro se stesso e togliendosi la mascherina. Questo è tra l'altro quello che dice Ezio Mauro sulla Repubblica a proposito di Salvini. Ma poi c'è il Movimento 5 Stelle che pure non sta vivendo un momento semplice, lo sappiamo, allora lo vediamo dal Corriere della Sera a pagina 12 e qui si fa riferimento alla legge elettorale, dice legge elettorale Di Maio apre giusta la soglia del 3% e sulle riforme si può discutere di bicameralismo. Oggi crimi vede i ministri. La cosa straordinaria della politica, in particolare della politica 5 Stelle, in particolare di Di Maio, è che in questo paese si può dire due giorni prima, una settimana prima, una cosa che è bianca e dopo una settimana tranquillamente dire una cosa che è nera senza che nessuno chieda conto di questo. Perché Di Maio, a proposito, lasciamo perdere la legge elettorale, ma a proposito del bicameralismo, quando durante il dibattito sul referendum qualcuno diceva che in realtà il tema vero era il bicameralismo, diceva sempre che lui era indisponibile perché riteneva invece che le due camere erano un'ottima cosa, un controllo l'una sull'altra. Adesso già stiamo, per fortuna, dico io, ma insomma. Così dice Alessandro Trocino, Luigi Di Maio interrompe il suo turno nazionale a sostegno dei candidati dei 5 Stelle per un'apparizione televisiva da Fabio Fazio nella quale parla il ministro degli esteri, ma di fatto anche da leader naturale del movimento. Di Maio rivendica i risultati del referendum e poi dice ora siamo costretti a fare una legge elettorale, a riformare i regolamenti e possiamo superare le pluricandidature. Dice anche, cambiando passo rispetto al passato, che è il momento di affrontare il tema del bicameralismo. Il modello inevitabile spiega è il proporzionale, sia pure corretto, con una soglia di sbarramento per la governabilità. Il 3% gradito anche a Matteo è una soglia sana. Poi chiede di abolire i paracadutati, introdurre le preferenze e vabbè, insomma, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera a pagina 12, che poi però riporta una intervista con il capogruppo alla Camera Crippa, che la mette meno dialogante. Siamo il gruppo più grande, il Premier deve passare da noi qualsiasi cosa voglia fare. Nessuno approfitti del momento. E poi c'è qui, anche a proposito di 5 Stelle, la notizia che Ebay ha sostanzialmente calcellato l'account di Grillo, il quale metteva in vendita pomice da 1000 euro per... ho letto da qualche parte per togliere le scorie della casta, non so bene le cose di certo. Comunque, almeno Ebay l'ha mandato a quel paese. C'è riuscito. Bene, segnalo da Repubblica, a pagina 11, anche qui ci si occupa dei 5 Stelle e lo si fa con Ilvo Diamanti che pubblica un sondaggio, il Movimento 5 Stelle metamorfosi di un non partito diventato normale e qui si fa riferimento ai giudizi sui leader del Movimento 5 Stelle ed è significativo che Giuseppe Conte, che è messo tra i leader dei 5 Stelle, la separazione è tra il giudizio che danno tutti e quello che c'è tra gli elettori del Movimento 5 Stelle. Conte nel giudizio che danno tutti ha il 60% di gradiamento e il 77% per quanto riguarda i 5 Stelle. Di Maio ha il 32% di consenso tra tutti gli elettori e invece il 71% per quanto riguarda i 5 Stelle. Alessandro Di Bastista ha il 21% tra tutti gli elettori e il 52% nei 5 Stelle. Vito Crimi ha il 18% tra tutti gli elettori e il 41% per quanto riguarda i 5 Stelle. Devo dire che, con tutto il rispetto per Diamanti, il fatto che uno come Vito Crimi possa avere il 18% di fiducia nel corpo elettorale mette a dura prova la credibilità di questo sondaggio. Beppe Grillo avrebbe 17% in termini di fiducia nell'elettorato generale e 59% per quanto riguarda quello dei grillini. Questo è il quadro di un sondaggio molto ampio, se lo volete lo trovate a pagina 11 della Repubblica e per chiudere però non possiamo non prendere libero che dedica le pagine prima e terza ai grillini, sfruttano l'anticasta per guadagnare, ecco i grillini arricchiti. Di Maio e Fico prima di essere eletti dichiaravano zero, ora incassano 98.000 euro, la catalfa è passata da 28.000 a 120.000, Crimi da 23.000 a 97.000, meglio fare i 5 stelle che lavorare. Questo è quello che scrive Libero e si fanno a Tilio Barbieri e si fa riferimento a Fico, Di Maio che guadagnavano niente, adesso guadagnano 98.000 euro e passa l'uno, si mette i crimini, ma si mette anche Laura Castelli, la vice ministra dell'economia che nel 2012 guadagnava 23.000 euro, ora ne guadagna 98.000, così come la taverna che nel 2012 guadagnava 16.000 euro e ora ne guadagna 105.000 e c'è Alessandro Giuli che riprende questo articolo dalla prima pagina, sfruttano l'anticasta per guadagnare, nato per moralizzare la politica, 5 stelle ha fatto una fortuna di una nuova nomenclatura e questo è il giudizio di Libero sul Movimento 5 Stelle, con questo abbandoniamo il Movimento 5 Stelle e per quanto riguarda il PD devo segnalare un'intervista del capodelegazione del governo Franceschini che è intervistato da Lavini a Rivara, che il titolo è Franceschini ecco le priorità sui fondi UE, Covid e riforme, serve dialogo con l'opposizione, tra l'altro la domanda che gli fa tra le altre, la giornalista e l'esperimento dunque va avanti, Zingaretti entreranno il governo per consolidarlo, risponde Franceschini, il segretario ha già detto chiaramente come la pensa su questo punto, quanto al governo il bilancio ripeto è largamente positivo, nonostante ci sia nella sinistra chi, come è sempre accaduto, vede solo le cose che non vanno, io penso invece che possiamo arrivare a fine legislatura e vedo tre grandi priorità, la prima è gestire l'emergenza Covid, il mondo ci sta riconoscendo dei risultati ma la pandemia non è ancora superata, la seconda è l'utilizzo del recovery fund, progettando l'Italia del futuro e la terza è avviare una nuova stagione di riforme istituzionali perché è stato giusto dire sì al taglio dei parlamentari ma da solo serve a poco, adesso sentire Franceschini che dice è stato giusto dire sì al taglio dei parlamentari, ma giusto perché gli voglio bene è veramente un amico perché se no va bene. E vorrei sottolineare un aspetto, queste tre priorità sono un terreno formidabile per cercare di costruire un rapporto con l'opposizione, attraverso il dialogo Stato-Regione e naturalmente in Parlamento, credo sia possibile anche perché al centrodestra, dopo le ultime regionali, mi pare sia passata la voglia di andare subito al voto. Dice la giornalista, lei parla di riforme sulla vostra proposta di legge elettorale proporzionale e le cose sono messe male, Italia Viva, Padri Nobili del PD e il primo partito dell'opposizione e la Lega sono per il maggioritario. Dice Franceschini, intanto a favore del proporzionale c'è stato un voto nel nostro partito e un accordo siglato da tutta la maggioranza con un testo in Parlamento che credo sarà sostanzialmente confermato nonostante alcuni distinguo. Poi c'è il merito, si dice che il proporzionale crea instabilità. In realtà in questi ultimi vent'anni abbiamo avuto diversi sistemi maggioritari, ma i governi sono cambiati più volte. La legge elettorale in sé non garantisce la stabilità, ma di certo il maggioritario costringe le forze moderate del centrodestra a stare zitte e buone sotto l'ala di Salvini. Non sapevo che Franceschini si preoccupasse adesso di quello che accade nel centrodestra. Si riferisce a Forza Italia? Lì in effetti molti sono favorevoli al proporzionale. Sareste pronti ad approvare in aula una legge elettorale con i voti dei forzisti tagliando fuori Renziani e Sinistra? Per fare una buona legge elettorale devi prima avere un accordo nella maggioranza. Questa è la premessa. Poi devi allargare il più possibile il consenso all'opposizione. Ci sono altre domande, ma ne segnalo solo una perché invece questa è significativa, andrà analizzata. Vedremo che vuol dire, dice la giornalista, dopo il no all'alleanza per le regionali. Ora i grillini vi propongono un patto sui candidati nelle grandi città alle prossime comunali. Ma Zingaretti ha già detto di considerare una sciagura la ricandidatura a raggi. È un bel macigno, non le pare? E sentite cosa dice Franceschini. Trovo stravagante che di fronte ad elezioni a turno unico, come le regionale, si rifiuti un'intesa e quando sono previsti due turni, come è per il voto sui sindaci, si proponga invece patti da stringere subito, anche se c'è la possibilità di farli al momento del ballottaggio. È comunque chiaro che ci sono dei nomi che rappresentano un impedimento a qualsiasi accordo. Cioè Franceschini sostanzialmente dice quello che molti di noi hanno anticipato, sospettano, dicendo che a Roma non possono fare un accordo con la raggi in prima battuta, ma che in realtà l'accordo si sta delineando e si delinea nel ballottaggio. E ovviamente continuiamo a dire tantissimi cari auguri. Per quanto riguarda il centrodestra, come vi ho detto, c'è questo sondaggio della Ghisleri sul giornale, se non erro, nella pagina 2 e 3 si parla del centrodestra, c'è l'analisi di Fabrizio Di Feo, Salvini vuole la Lega del buonsenso e sui poteri speciali non chiude al Premier, il leader nega l'avvicinamento al PPE e la svolta moderata, ma si riorganizza e tra l'altro c'è questa intervista da Alessandra Ghisleri, di Paolo Bragalini, che dice italiani impauriti dal Covid, un pacificatore alla coalizione, dice alla Ghisleri gli elettori chiedono sicurezza, i toni aggressivi non premiano, Zaya vince perché è moderato. E a proposito dell'alleanza dice il predelino non è replicabile, ma serve un progetto comune. Per quanto riguarda i sondaggi dice rimanere opposizione fino a fine legislatura, può logorare il centrodestra, ma diciamo che per diventare maggioranza c'è bisogno di voti in Parlamento, e poi dice il capitano Salvini è un uomo di azione ma deve imparare ad essere aggregante. E va bene, questo è quello che ci dice il giornale sulla base di un'analista come la Ghisleri che sicuramente non conosce le questioni. Per quanto riguarda la giustizia segnalo sul domani, un po' in linea con l'articolo che c'era stato di Mieli e al quale aveva risposto salvi il primo magistrato della Cassazione sul caso Palamara, vi segnalo nello Torchia, a pagina 5, Giulia Merlo, che la mette così, la magistratura processa Palamara e assolve se stessa. Al CSM 11 udienze in 20 giorni per arrivare a sentenza sul PM accusato di gestire le nomine, l'obiettivo è chiudere prima del pensionamento di Davigo e chi lo cercava non corre rischi. Insomma, il caso degli incarichi nelle procure, il domani lo denuncia così, ma vi dicevo anche in prima pagina da segnalare un articolo di Nello Torchia da Santa Maria Capovetere, la spedizione punitiva della polizia in carcere, ecco le prove degli abusi e tra l'altro scrive Nello Torchia, schiene sfregiate, detenuti in ginocchio contusioni, il 6 aprile si è consumato un episodio di inaudita violenza nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta. Ci hanno distrutti, dice un ex detenuto che chiede di rimanere anonimo. Ora da uomo libero ricostruisce i fatti di quelle ore, la sua testimonianza degli abusi agghiaccianti trova conferma nei video che hanno ripreso la violenza. Si tratta di documenti che permettono di scrivere la verità su quella giornata e di raccontare il pestaggio dei danni di decine di detenuti da parte di un contingente speciale composto da circa 300 poliziotti penitenziari. Dopo le prime denunce dei detenuti e le repliche del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria su questa vicenda è calato il silenzio, interrotto solo lo scorso 11 giugno con un decreto di perquisizione nei confronti di 57 agenti della Polizia Penitenziaria. Qui si fa riferimento anche a Matteo Salvini che è andato subito là sotto a difendere senza conoscere nulla, ma questo gli capita spesso, insomma vedremo come evolve questa situazione. Per quanto riguarda il Papa, vi segnalo la Repubblica ovviamente in prima pagina Vaticano svolta nelle finanze, adesso il Papa cambia tutto dopo gli scandali e il caso Becciu, Borgoglio toglie la gestione dei soldi della segreteria di Stato, la cassa passa sotto il controllo dell'ASPA di Monsignor Galantino e di un gesuita suo fedelissimo. Con il Cardinale ci sono altri sei accusati, ecco le rivelazioni decisive, Paolo Rodari dal Vaticano e poi c'è Gianluca Di Feo che fa un'analisi del nuovo nepotismo che sfrutta l'Africa, questo sulla Repubblica. Voglio segnalarvi anche Maurizio Ferrara, l'ex direttore del Foglio, sul Foglio che la mette abbastanza pesante nei confronti della decisione del Papa. Tra l'altro scrive Ferrara, quando si tratti di essere nel mondo, ma non nel mondo, i gesuiti dovrebbero essere maestri, invece qualcosa è andato storto se il loro primo Papa si consegna mani e piedi alle inchieste dell'Espresso, via certi protocolli andrebbero rispettati e fatti rispettare. Le istituzioni sacrali o carismatiche non possono agire su istituzioni della finanza, con tutto il rispetto per il lavoro dei finanzieri, non possono incorporare un senso e una procedura di giustizia mutati dal secolo, altrimenti poi succede che il Cardinale Pell, questo dreyfrusse, incarcerato e torturato da una giustizia aborigena, con l'anella a naso, fino ad essere poi assolto da sette giudici supremi su setti per le farse accuse che gli sono costate tutto, e che mostra di godere adesso per la disgrazia subitanea del suo nemico curiale Cardinale Giovanni Angelo Becciu, passa dallo statuto del grande innocente abbandonato dalla sua famiglia vaticana come un cane in autostrada al ruolo indecente di inquisitore in seconda. La carità non è solo un sentimento, l'esistenza del divino è una tecnica di governo. I protestanti, le loro chiese e assemblee, prima che svanissero nel mondo, le modellarono sullo stato del loro tempo, mica sulla fede selvaggia e sublime di Lutero o sulla asferità di Calvino. Niente si regge su parte nostra tranne l'intimità della preghiera e della relazione con Dio e del suo popolo credente, figuriamoci un'istituzione bimillenaria che ebbe il suo battesimo di fuoco e della roccia prima da Cristo, maestro della vera giustizia e poi da un imperatore romano e presidente del concilio. Questo tra l'altro è così la mette Ferrara. Per quanto riguarda lo sport, adesso rapidamente solo dei titoli, il messaggero a pagina 7 ci dice che c'è un problema tra Spadafora e Cio, l'Olimpia dell'Italia rischia, il Cio contro Spadafora e adesso la legge si ferma. Pagina 7 del messaggero. Per quanto riguarda invece Autostrade, c'è un po' su tutti i giornali, ma in particolare lo pigliamo dalla stampa che vi dedica due pagine, la 4 e la 5, il governo ad Autostrade risposta in tre giorni o sarà revoca immediata e poi c'è il retroscena di Lario Lombardo, ultima mediazione a Palazzo Chigi, congelare i fondi del risarcimento questo sulla stampa. Per quanto riguarda invece il lavoro è sempre sulla stampa che voglio segnalarvi a pagina 16 questo titolo sulla garanzia giovani, garanzia giovani, boom di tirocini, ma solo uno su tre resta in azienda, a sei anni dal debutto, la prima fase della misura UE è conclusa, bilancio in chiaroscuro, però il progetto sarà rifinanziato la stampa a pagina 16. Ancora per quanto riguarda la scuola segnalo due questioni, il messaggero a pagina 5 che ci dice che dai libri ai compiti in classe il caos delle regole della scuola, istituti in ordine sparso, invece dal punto di vista degli insegnanti, il problema degli insegnanti, il sole 24 ore in prima pagina che ci dice scuola il 22 ottobre via ai concorsi, il calendario fino a metà novembre, le prove per i 32 mila posti riservati ai precari con tre anni di servizio, entro il 2020 partono anche le selezioni ordinarie dei neolareati. Questo per quanto riguarda la scuola. Sul tema del virus ci sono notizie un po' ovunque, segnalo il Corriere della Sera nelle pagine 8 e 9, meno tamponi, contagi in calo, Campania prima per nuovi casi, ci sono interviste a Guerra, Ricciardi, tutto quello che volete, ma insomma c'è anche boccia che ci dice sul tempo a pagina 9 che sostanzialmente sarà prorogato lo stato di emergenza e poi però se volete sapere c'è anche il tema dell'Europa, di chi ci circonda, la curva sale, 5 mila decessi al giorno, il mondo ha un milione di vittime, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera per quanto riguarda il resto dei paesi d'Europa, segnalo sulla stampa pagina 10 un articolo sul tema della violenza alle donne che è molto indicativo, dice violenza 5 mila alle donne in pericolo ma solo una su sette ha denunciato i dati dell'Istas sulle chiamate di richiesta di aiuto fatte durante i mesi del lockdown più 73% rispetto al 2019. Tutti i giornali segnalano l'appartenente alla Capitaneria di Porto, Bisalli che è morto per salvare un ragazzo, sta su tutti i giornali e in particolare a Milazzo e lo segnalano sul Corriere della Sera a pagina 19, annega per salvare due ragazzi, Messina ha recuperato il corpo del militare della Capitaneria e è morto da eroe, il cordoglio di Conte, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Per quanto riguarda i migranti invece voglio segnalarvi sull'inserto, nella pagina 4 dell'inserto del foglio, un articolo di Lorenzo Borga, tutti gli scogli del piano von der Leyen sull'immigrazione, sound check, richieste di asilo, flussi di arrivo in Italia, vaglio del Consiglio Europeo, non è così facile superare il trattato di Dublino. Questo sui migranti, per quanto riguarda la politica estera vi segnalo dal Corriere della Sera a pagina 15 la guerra che si sta riprendendo tra Armenia e Azerbaijan, Armenia e Azeri brucia il Caucaso, si riaccende la guerra dei 30 anni, l'Azerbaijan bombarda il Nagorno-Karabakh, 16 morti, le pressioni di Russia e Turchia. E per concludere, invece per quanto riguarda gli Stati Uniti, c'è Trump che ogni giorno ce n'ha una, adesso nel problema delle tasse, Trump per anni non ha pagato le tasse, l'inchiesta del New York Times, scuote il voto in USA. Questo è quanto ci dice la Repubblica. Bene, con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi, per chi vuole ci possiamo sentire domani alla stessa ora alle 7 e mezza e ricordo sempre, poi c'è la possibilità di riascoltare tra una decina di minuti il podcast di questa rassegna stampa. Grazie a tutti e buona giornata.